chi dite? dove? guarda le fiume che regala se di ora ma... oh coddio! porco ma non lo so! questa è ammazzata gente ragazzi questa è ammazzata gente questa è ammazzata gente porca proia guarda il vettore guarda il vettore oh porca puttana è mortata gente questa porca puttana vettore abbassa Dileo guarda la casa io scaricate i fucili scaricate i fucili scaricate i fucili scaricate i fucili oh camadongia troia puttana guarda le case guarda le case io barzo guarda le case la corrida guarda le case io guarda le case io